Dal 28 aprile al primo maggio Castiglioncello nel comune di Rosignano Marittimo in provincia di Livorno in collaborazione con Vetrina Toscana ospita il Foodies Festival. Nell'anno nazionale del cibo italiano la quinta edizione del festival ha come tema il cibo e arte, l'arte del cibo. Sarà un vero e proprio viaggio nell'arte e nel cibo di tutte le epoche, dalle scene di caccia dei graffiti preistorici, passando dai mosaici pompeiani e bizantini fino alle opere più famose del Rinascimento. Ma il cibo è come sempre il racconto di storie, il racconto di eccellenze, di tradizioni e le diverse iniziative anche all'interno dello stesso comune raccontano e valorizzano le sfumature, le differenze. Coinvolgono, sono al momento stesso un momento di ricerca, una narrazione ma anche di semplice festa, elementi di attrattività, iniziative che non mancheranno e non lo hanno già fatto in passata, non mancheranno di attrarre sulla nostra costa turisti, curiosi, villeggianti, tanti che cercano, oltre che la meta, cercano una sollecitazione. Il festival, che si svolge all'interno del parco del Castello Pasquini e a Portovecchio, proporrà quattro giorni di forum, cooking show, incontri e degustazioni dedicate al cibo all'arte e ai paesaggi per raccontare la storia e la bellezza del territorio e della sua gastronomia. Avremo una serie di forum importanti che spazieranno da un argomento che si può sembrare banale, qual è il ragù perfetto, ma che invece riuscirà a parlare delle varie tradizioni con cui in Toscana e fuori dalla Toscana si fa un ragù, quindi la carne chianina, l'olio, evo, il pomodoro, le vecchie tradizioni che si portano in avanti. Poi parleremo in un altro show, invece parleremo della pasta e l'olio, quindi l'olio extravergine, le paste che ormai stanno diventando dei must di eccellenza della Toscana, le paste di grani antichi, le paste con i grani e i sapori dimenticati. Avremo l'onore di avere Federico Quaranta che verrà a presentare e a fare da mediatore fra gli chef, il pubblico e i rappresentanti dell'agricoltura in questo show. Lunedì 30 alle 20.30 si terrà uno degli eventi più importanti, test archeologi alla tavola di Trimalcione, una scena a tema con spettacolo dentro il museo archeologico di Rosignano Marittimo. Uno degli eventi clou di cui siamo orgogliosi è questa scena che avverrà all'interno della domus ricostruita nel nostro museo archeologico e che si intitola Tavola con Trimalcione, in cui due chef di eccellenza del territorio usando prodotti che già dall'epoca romana erano sulle tavole, riproporranno una delle più famose scene della storia usando non solo il cibo ma l'ausilio di musici e artisti di fama che ci introdurranno in una sorta di scena di favola nell'antica Roma.